Il voto complessivo di questo articolo di Candy è di 8.8 su 10. Risulta essere il più votato per questa categoria con 1754 valutazioni. Le sue qualità sono. Facile da installare. Ottimo rapporto qualità prezzo. Facile da montare. Stile. Facile da usare. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. La valutazione di questo prodotto di Candy è di 9 voti su 10. Risulta essere la nostra scelta migliore. Le sue principali funzionalità sono. Facile da usare. Ottimo rapporto qualità prezzo. Facile da montare. Stile. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Bosch elettrodomestici ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9.4 su 10. È il più esclusivo di questa selezione. I suoi punti di forza sono. Ottimo rapporto qualità prezzo. Stile. Facile da usare. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo. Clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo articolo di Candy ha riscontrato una valutazione di 8.8 su 10 totali. Risulta al momento essere il più desiderato. I suoi punti di forza sono. Facile da montare. Facile da usare. Ottimo rapporto qualità prezzo. Stile. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video. Candy. Con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8.2 su 10. Ha per il momento il miglior rapporto qualità prezzo. Questi sono i suoi punti di forza. Stile. Facile da usare. Ottimo rapporto qualità prezzo. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. Il voto complessivo assegnato a questo articolo di Electrolux è di 9 su 10. Risulta al momento essere il più venduto. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. Facile da installare. Facile da usare. Ottimo rapporto qualità prezzo. Stile. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. La valutazione finale assegnata a questo articolo di iSense è di 8.4 voti su un totale di 10. Al momento risulta essere il più regalato. Le sue funzionalità sono. Ottimo rapporto qualità prezzo. Stile. Facile da usare. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video.